Cari amici, buongiorno, saluti dal Teatro di Bordeaux. Questo è il mio nuovo teatro, che ciò che ho mostrato nell'altra registrazione. La settimana prossima farò qui il mio debutto ufficiale, preparando il coro per la Via Crucis di Liszt, all'interno di un festival sul pianoforte, lì ci sono già i manifesti, l'Esprit du Piano, è una serie di concerti al pianoforte fatta da importanti solisti, uno dei quali prevede la presenza di Vanessa Wagner, una grande pianista, che suonerà una prima parte di Liszt e poi la seconda parte farà con noi la Via Crucis di Liszt, che è un pezzo bellissimo per debutare con il coro. Ciao a tutti!